Una comunità, quella di Ostellato, ancora ferita dal dolore e che lunedì si stringerà attorno alla famiglia di Safira Carli, la bimba di 9 anni, deceduta domenica 16 luglio, dopo essere stata investita a Campolungo di Ostellato da un'auto il venerdì precedente, il 14 luglio, il mezzo guidato da un giovane del luogo. Sarà l'arcivescovo di Ferrare Comacchio, Monsignor Giancarlo Perego, a celebrare le esequie della piccola lunedì alle ore 16 nella chiesa parocchiale di Ostellato. Con una nota, la diocesi estense ha voluto dimostrare la grande vicinanza alla famiglia di Safira Carli, a Don Luciano Domeneghetti e alla comunità di Ostellato. Proprio qui, come disposto dal sindaco Andrea Marchi, lunedì sarà lutto cittadino. Un momento di silenzio voluto per onorare la piccola concittadina tragicamente scomparsa, così il primo cittadino invita i pubblici esercizi ad aderire al lutto cittadino, i quali chiuderanno l'attività durante le esequie. Le bandiere della residenza municipale di Ostellato saranno listate a lutto, così come il gonfalone del comune. Rinnovo alla famiglia Carli, unitamente al cordoglio, continua Marchi, la più sincera vicinanza di tutti i cittadini del comune di Ostellato, al loro dolore, al quale ci avviciniamo con rispetto e discrezione, conclude il sindaco.